Angolo numero 3 per i viola, Caglioni battuta al diciottesimo. Pallone sul secondo, salta Igor e poi Milenkovic! 1-0 Fiorentina! Attenzione a Benevento, bravissimo Rosati. Benassi il velo, l'ottima idea per Cocorin, va col destro! Manfredini, un miracolo sull'attaccante viola. Al trentottesimo. Buone dentro, Male, Caglioni va a puntare Vogliacco, Benassi il cross, pallone sul secondo, sottile! E poi ancora il numero 33, viola, che porta al raddoppio la squadra di Firenze al secondo minuto della ripresa. Un minuto e 50 secondi e la Fiorentina ha fatto capire che vuole chiudere la partita subito. E lì ne approfitta, Brignola va a servire Sao, il cross è sul secondo e arriva il gol. Del 2-1 del Benevento e lo segna proprio il numero 21, Moncini, Terzic, Elia. Punta Terzic, pallone che passa, lo scarico, il sinistro dalla distanza da parte di Calò e Rosati. Mette fuori 95esimo e infatti finisce qui Fiorentina Benevento. Sarà dunque Napoli, Fiorentina agli ottavi il 12 o il 19 di gennaio.